Ancora un falso poliziotto e un ancor più fasullo tecnico in azione questa mattina in città ai danni di un'anziana residente di Via Puccini derubata dalla pensione di Monili dal valore complessivo di circa 5.000 euro. L'81enne li ha fatti entrare nell'appartamento per i soliti controlli e ha consegnato loro le chiavi della cassaforte, come ci ha raccontato il genero della donna. Due persone, pare uno con un vestito con scritto su polizia o simili cose e un altro, che si definisce delle mie per l'immondizia, l'ancurata. Praticamente sono saliti, si sono fatti trovare davanti alla porta dell'appartamento e da lì hanno inscenato la commedia via. Hanno rubato, li hanno fatti tirare fuori purtroppo la chiave della cassaforte e hanno rubato, sono degli esperti. La coppia potrebbe essere la stessa che ieri ha colpito altre tre famiglie di anziani, indaga la polizia di Piacenza.